Codiale saluto dalla redazione di Firenze Smart in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1 dove in direzione Roma si segnalano code per un veicolo fermo in avaria al km 270-800 tra Arvivio con la variante di Valico Baccheraia e Calenzano Sesto Fiorentino. Sulla stessa tratta ma in direzione Bologna ci sono rallentamenti per traffico intenso. Spostandoci sulla FIP LICODE per un veicolo fermo in avaria adesso rimosso tra Ponte d'Era Est e Montopoli-Valdarno in direzione Firenze. Tratto chiuso per lavori tra Livorno e Darsena Toscana Est in entrambe le direzioni. Per la viabilità cittadina Firenze in Viale Amendola ha chiuso il controviale tra Viagiotto e il numero civico 48 fino al 15 settembre. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!